musica 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 ciao gentaglia sono Shota HatesU questo è Breaking Italy e iniziamo parlando di un argomento che verrà dibattuto un sacco dove non dovrebbe essere dibattuto come non dovrebbe essere dibattuto mi riferisco a questo gioco anche se in realtà quello che state guardando è una sorta di trailer ed è arrivato con un obiettivo particolare diverso dagli obiettivi soliti dei trailer di qualsiasi cosa che servono per dire hey stiamo facendo questo gioco guardate che figo perché palesemente il gioco non è figo se ne sono visti milioni così è uno spratutto isometrico la grafica è quella che è infatti il punto è un altro ed è proprio la ragione per la quale ne stiamo parlando la gente è indignata o se non è indignata in questo momento lo sarà non appena questo videogioco apparirà sugli schermi televisivi di un sacco di famiglie in tutto il mondo quello che si vede nel trailer infatti ed è la cosa più importante è un pazzo che è poi il personaggio che il giocatore va a controllare il quale obiettivo durante il gioco è uccidere tutti a caso continuamente perché il personaggio è appunto una persona spostata che decide durante il suo monologo di uccidere tutti perché l'umanità è una merda quindi ricalcando una delle tante sparatorie che tristemente avvengono in tutto il mondo fatte da persone spostate insomma è un gioco violento per essere violento è molto grafico in un certo senso perché le morti sono molto sanguinose e fatte per colpire e a questo punto quando fai un gioco brutto la tua unica opportunità è quella di renderlo perlomeno controverso in modo che comunque se ne parli premesso che comunque questo gioco non avrà alcun tipo di boom di vendita e sarà venduto nel secondo quarto del 2015 se ve lo steste chiedendo ma avrà sicuramente un boom mediatico e l'argomento che in molti stanno portando avanti è che differenza c'è tra questo gioco e un gioco come Grand Theft Auto nel quale comunque puoi tendenzialmente fare la stessa cosa in GTA ci sono delle trame che diventano via via più complesse ci sono molte cose da fare la violenza non è mai eccessiva o così gratuita o comunque così grafica però rimane un videogioco probabilmente un gioco di pessimo gusto incontrerà comunque il gusto di qualcuno perché il mio pessimo gusto non è il pessimo gusto di qualcun altro ma il tutto si può riassumere in due punti aspettatevi lo tsunami di merda che travolgerà nuovamente l'inutral gaming per le prossime settimane e poi lasceremo che il tutto scompaia successe la stessa cosa con Carmageddon che peraltro era pure un gioco divertente spostandoci su altro eccovi una veloce carrellata di cose che ho trovato interessanti tra oggi e il weekend nel quale non c'è la Breaking Italy perché ero troppo impegnato a bere birra e mangiare pizzette la vita è qualcosa di fantastico la prima notizia riguarda Kim Jong-un di nuovo visto che se ne parla continuamente io non ne sto più parlando perché ormai è un'ossessione dei media su questa figura alla quale si attribuiscono mille mila cose vi ricorderete infatti che oh mio dio aveva i tacchi e forse si è ferito e quindi è per quello che non lo si vede in pubblico ops è tornato tutte le cose che abbiamo scritto si sono dissolte nel nulla ed è di nuovo il caso molti giornali nazionali anche molto importanti e molto prestigiosi hanno cancellato gli articoli che avevano scritto durante la settimana e che volevano sentite un po' il livello di follia Kim Jong-un condannare a morte l'intera nazionale di calcio perché questa avrebbe perso appunto una partita di calcio ora quanto è possibile questa cosa quanto è possibile che un leader antidemocratico quanto si vuole sanguinario quanto si vuole faccia uccidere un'intera squadra di calcio perché ha perso una partita cioè neanche Darth Vader farebbe una roba così e infatti era falsa era una bufala che è stata lanciata dal National Report e se voi seguite Breaking Italy da un po' saprete che ci occupiamo spesso di siti come il National Report The Onion sono siti che si inventano le balle esattamente come Mercio è più o meno la stessa cosa si inventano le notizie ma di nuovo nessuno è andato a verificare le fonti questa notizia è stata lanciata al pubblico ho visto un sacco di persone nella mia timeline di Facebook ricondividere questa notizia indignate ficandoci dentro storie che non c'entravano nulla come Putin l'Ucraina l'Isis facendo il solito minestrone di cose quindi uno a questo punto non fidatevi di nessuno non fidatevi di nessuno andate voi a verificare ogni singola fonte perché tanto i giornali nazionali spesso non la fanno questa cosa e proprio su Kim Jong-un non la fanno mai vi ricorderete quando è girata la bufala sul fatto che lui avesse fatto uccidere l'ex fidanzata e non era vero o avesse dato lo zio impasto a dei cani e non era vero o che fosse dipendente dal formaggio Emmental riprendiamo occidente riprenditi durante il weekend è anche arrivata la notizia che ritengo sia interessante perché io poi sono un grande utente di Twitter lo preferisco a Facebook e lo uso un bel po' di più che appunto Twitter, l'azienda di Twitter abbiano deciso di mostrare nella timeline degli utenti anche tweet di persone sconosciute il che è un altro passo per differenziare anche se molti la pensano al contrario in merito a questa questione Twitter da Facebook una delle grandi differenze da queste due piattaforme è infatti che su Facebook normalmente si interagisce molto di più con persone che si conoscono anche sulle pagine Facebook di persone sconosciute se voi commentate arrivano i vostri amici e la prima cosa che vedono è il vostro commento in modo che comunque la cosa abbia sempre un non so che di familiare stai discutendo delle cose con i tuoi amici su Twitter non è così è una piazza nella quale tutti parlano con tutti di un sacco di argomenti e quindi Twitter ha pensato di includere questa cosa a seconda di chi seguite a seconda di cosa scrivete a seconda degli argomenti che vi interessano ogni tanto vedrete sulla timeline tweet di persone che non conoscete anche se questi non sono stati retweetati da nessuno semplicemente deciderà Twitter cosa mostrarvi non è ancora chiaro se questa funzionalità potrà essere disabilitata e abilitata a piacere però ritengo sia qualcosa di interessante seguitemi su Twitter e potrete vedere cose di questo tipo sentite la conoscenza e la saggezza che questo Twitter ha e peraltro anche su Facebook seguitemi su Twitter e su Facebook altrimenti non siamo più amici prima di passare a quello che ritengo in qualche modo sia l'argomento principale di oggi perché ho da lamentarmi su qualcosa sono un vlogger quindi ogni tanto devo lamentarmi è così che funziona però I love you long time come al solito abbiamo l'avanzata dell'Isis che in questo momento è ancora ferma nella città di Kobane vi ricorderete che abbiamo parlato spesso della città di Kobane che è al confine con la Turchia e che da settimane è assediata dai guerriglieri dell'Isis e invece protetta dai guerriglieri kurdi che in questo momento sono i nostri migliori alleati sulla terra visto che sono gli unici combattenti che poi effettivamente fisicamente combattono i miliziani dello stato islamico peraltro fatevi un po' di ricerche perché è interessantissimo vedere che la maggior parte di questi combattenti kurdi sono persone normali ci sono moltissime donne a capo del gruppo che protegge la città c'è proprio una donna e sono donne così che se non stessimo parlando di qualcosa di tragico perché è comunque una guerra e le persone muoiono è anche qualcosa di fantastico perché perlomeno è una sorta di punizione del destino è un contrapasso miliziani dell'Isis che vengono respinti da delle donne fantastico il comando militare americano per il Medio Oriente ha fatto comunque sapere che armi, munizioni e attrezzature mediche sono state paracadutate dentro Kobane il che sarebbe una roba normale che vengono mandati loro i care package con all'interno le munizioni da mangiare invece no è la prima volta che si fa questo tipo di cosa per il semplice fatto che a prescindere dalla lotta allo stato islamico la Turchia e i kurdi non sono poi così amici quindi non è così contenta che i kurdi vengano armati da noi dell'occidente perché poi hanno paura che le stesse armi poi vengano rivolte verso di loro è per questo che le guerre spesso sono delle situazioni molto complicate anche molto interessanti da analizzare perché non c'è mai buoni e cattivi e non c'è mai un fronte contro l'altro sono sempre situazioni molto complesse che peraltro includono la vita le esperienze e le aspettative e i desideri di milioni di individui l'ultima persona della quale volevo parlare oggi gentaglia e poi sentir la vostra opinione in merito alla questione che circonda questa persona che non è più tra noi si chiama Jane Davis 86enne ex insegnante di matematica che se ne è andata in questi giorni appunto e se ne è andata in uno dei modi più brutti dolorosi e terribili conosciuti dall'uomo ovvero è morta di fame e di sete ma la cosa interessante è che è morta di fame e di sete volontariamente la donna britannica infatti era da tempo malata di varie patologie che le rendevano la vita molto difficile in varie occasioni infatti ha rilasciato delle interviste e ha fatto sapere quanto difficile e quanto dolorosa fosse la sua esistenza utilizzando appunto i termini come indescrivibile e intollerabile quando si riferiva al dolore che moltissime patologie però nessuna di queste mortale le causava il che cosa significa? significa che questa signora aveva un sacco di robe che però non l'avrebbero uccisa l'avrebbero semplicemente fatta soffrire un casino e ha più volte desiderato ed espresso il desiderio di poter morire ma le leggi britanniche non prevedono questa cosa tu non puoi morire anche se vuoi anche se ci sono le situazioni che renderebbero plausibile la morte l'eutanasia in questo caso non è assolutamente consentita il che può essere molto vicino a quella che è la nostra di esperienza dove l'eutanasia non è mai consentita tu vuoi morire perché stai malissimo? non puoi il che è ancora peggio se non hai una malattia terminale perché comunque ad un certo punto dici ok soffrirò tantissimo per il cancro però prima o poi morirò invece la signora non aveva nemmeno quella prospettiva per intenderci lei voleva morire i suoi figli erano d'accordo sul fatto che lei morisse addirittura alcuni nipoti abbracciavano la sua scelta ma non c'è stato nulla da fare perché la legge parla chiaro la cosa più straziante comunque è che la donna ha deciso quindi di terminare la sua vita smettendo di mangiare e di bere perché nessuno poteva obbligarla a mangiare e bere ma l'agonia è durata due settimane la signora si aspettava di morire in qualche giorno invece ci sono volute due settimane il che secondo me riapre di nuovo un'altra delle battaglie ideologiche di questa generazione ovvero l'eutanasia io voglio morire i miei amici i miei parenti sono d'accordo ma non posso perché bla 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 nessuno ha effettivamente una risposta sensata a questo tipo di cosa perché la vita è sacra non è una risposta sensata la vita che si vive in modo dignitoso è sacra e quindi questo gentaglia vi lascio il link in descrizione qui sotto ci sono anche i commenti fate del vostro meglio ma questo gentaglia è tutto quello che avevo a dirvi per oggi grazie per aver guardato niente Alfredo o Regina perché di nuovo non ho internet non so nemmeno se questa puntata ce la farà ad andare online ma io mi sto impegnando lo stesso con il 3G perché vi voglio bene e vi faccio anche il cuore la vi long time ci vediamo domani alle 18